Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, o meglio dovrei dire bentornati in questo nuovo corso perché questo video sarà un corso, vero e proprio, di Natura Basic sull'analisi fondamentale delle criptovalute ma un'analisi fondamentale che soltanto qualche anno fa secondo me non era possibile, non si poteva fare sul mercato cripto mentre nell'anno 2021 che sono cambiate veramente tante cose, una di queste è stata averci dato dei primi dati veri di analisi fondamentale per permetterci di farla anche sul mercato delle criptovalute e quindi abbracciamo questo corso, un corso in un solo video YouTube sarà breve ma intenso, breve per quanto può essere un video corso ragazzi, quindi comunque staremo in compagnia un bel po' di minuti vi spiegherò che cos'è l'analisi fondamentale nella sua teoria, quella classica, come va divisa nell'ambito delle criptovalute ci sono due aree di analisi fondamentale, noi abbiamo quasi sempre parlato, avete quasi sempre sentito parlare nei video YouTube di analisi fondamentale macro, mentre adesso è possibile anche iniziare a fare l'analisi fondamentale, quella micro che ci consentirà di poter fare la cripto picking, cioè scegliere quelli che sono i progetti e i protocolli nel settore criptovalute che possono rispettare quelli che sono i parametri di analisi fondamentale quindi di redditività come si fa nel mercato delle stocks ragazzi allora sono molto contento di portarvi questo contenuto, è un contenuto di alto livello cercherò comunque di essere il più basic possibile come sempre faccio ragazzi daremo a tutti la possibilità di comprendere questi concetti senza andare a approfondirli in maniera eccessiva perché diventerebbe veramente impossibile da gestire, ci faremo anche tanti esempi pratici allora ho preparato delle slide, abbiamo due tre siti da guardare e poi faremo anche una strategia quindi andremo proprio a scegliere alcune criptovalute in base a quelli che sono degli esempi di una strategia che è possibile utilizzare per applicare in maniera operativa l'analisi fondamentale nel settore delle criptovalute allora facciamo così, intanto ragazzi prima di andare avanti io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale lasciatemi però i pollici per questo video che è da una settimana che sto lavorando fatemi sentire la vostra vicinanza con il mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto perché io inizierei subito con la parte teorica corso di analisi fondamentale in versione criptovalute ragazzi allora di che cosa parliamo? Intanto andiamo a definire quella che è l'analisi fondamentale e dividiamola dal concetto dell'analisi tecnica che è quella che applichiamo giusto per riferimento quando andiamo a guardare i grafici l'analisi fondamentale è divisa in due tipi di approcci un approccio macro cioè l'analisi delle informazioni relative al sistema economico ai dati di mercato complessivo, questo tipo di analisi macro l'andiamo a fare per esempio nei mercati classici quando andiamo a guardare quelli che sono i dati relativi alla Federal Reserve ai tassi di interesse quando parliamo di emissioni di moneta quello che hanno fatto con le politiche post pandemia per esempio tutto quello che riguarda quella sfera è analisi fondamentale macro cioè riguarda le politiche economiche mondiali messe in atto dalle banche centrali che possono portare a una recessione o ad una espansione del mercato e anche del settore azionario nel caso delle criptovalute non abbiamo per fortuna la banca centrale allora in questo caso quali sono le analisi macro che si possono fare in questo mercato sono le analisi di natura on-chain quando andiamo a guardare per esempio ragazzi tutti quelli che sono i grafici relativi all'on-chain quindi il famosissimo balance di Bitcoin negli on-chain che in questi ultimi mesi sta uscendo appunto da exchange dal mio punto di vista questa analisi di natura fondamentale macro sul settore delle criptovalute è un po' azzartata perché se da un certo punto di vista è accattivante sicuramente ci sono degli indicatori che andremo anche ad analizzare ad aggiungere al nostro paniere di armi tecniche per quest'anno è anche vero ragazzi che le cripto sono ancora fortemente dipendenti dalla struttura macro dell'economia mondiale quindi dipendono molto di più dalle scelte di politica economica per esempio delle banche centrali di emissione di liquidità piuttosto che da indicatori macro proprio inerenti al solo settore delle criptovalute e quindi a mio avviso analizzare on-chain il settore cripto è una parte importante del lavoro ma non è possibile considerarlo l'intero lavoro proprio perché c'è tutta una dipendenza dal vecchio settore classico l'economia classica che ancora comunque persiste c'è anche un indicatore molto importante del modello dell'analisi fondamentale macro cioè l'analisi del grafico di bitcoin e del tasso di adozione delle criptovalute questi sono dati macro per esempio quando noi parliamo e diciamo moltissimi progetti si stanno approcciando al mondo blockchain stanno iniziando a utilizzare i protocolli blockchain i progetti come paypal che vogliono utilizzare il bitcoin e altre criptovalute quelli sono analisi di settori macro fanno parte dell'analisi fondamentale delle criptovalute gli istituzionali che entrano nelle cripto e bitcoin che vanno negli etf tutta questa argomentazione fa parte dell'analisi fondamentale macro e ci dà un'indicazione di massima sulla salute del mercato cripto nella sua interezza ma poi se vogliamo andare a spulciare invece all'interno del mercato cripto quelli che sono i protocolli quelli che sono le cripto, i token che possono darci magari maggiori soddisfazioni in base ad indicatori fondamentali dobbiamo lasciare questa tipologia di analisi quindi non va più bene l'analisi macro ma dobbiamo abbracciare quello che è un approccio di natura micro l'approccio micro dell'analisi fondamentale è quello più famoso anche per analizzare le stocks e per analizzare le azioni quello che si usa da sempre analisi delle informazioni strategiche di un progetto e degli indicatori di redditività in rapporto al prezzo del mercato allora questo tipo di approccio micro è quello che ci dà la possibilità di scegliere fra una cripto e un'altra non basandoci su un'analisi tecnica e basta perché lo abbiamo fatto finora ma andando proprio a fare cripto picking cioè andare a scegliere quei progetti che possono avere una maggiore evoluzione magari in futuro proprio grazie alla loro struttura economica la redditività del protocollo questa cosa fino a un anno fa era assolutamente impossibile da fare perché avevamo pochissimi dati quindi era oltre impossibile praticamente inutile adesso possiamo farlo quindi andiamo a vedere e a studiare in questo corso l'analisi micro del settore cripto quindi non facciamo un chain andiamo a vedere quali sono gli indicatori e i parametri che possiamo valutare dei protocolli in termini di analisi fondamentale andiamo a vedere quali sono i più importanti che sono tutti ovviamente prelevati dall'analisi classica il value investing per intenderci quindi il PE, il PS eccetera andiamo a vedere questi indicatori dove trovarli vi do il sito anche dove sono pubblicati e poi andiamo a fare la nostra strategia operativa standard diciamo un esempio di strategia operativa ok continuiamo con la nostra slide obiettivo dell'analisi fondamentale con l'approccio micro trovare asset sottovalutati e con ampia prospettiva di crescita futura un po' quello che nel settore cripto siamo stati abituati a fare quando andiamo a studiare i progetti andiamo a studiare il white paper del progetto andiamo a studiare un po' la tokenomics e tutto quell'ambaradan è anche vero ragazzi che molti di voi diranno Mauro c'era la tokenomics legata all'analisi micro fondamentale la tokenomics era uno dei parametri da studio dell'analisi fondamentale micro però era uno studio di un qualcosa che doveva avvenire quindi uno studio di un parametro forward cioè futuro non era reale perché quello che troviamo scritto nel white paper poi non si sa se viene rispettato e in che modi va a finire mentre in questo caso noi andiamo a trovare proprio dei parametri che sono già stati realizzati cioè i parametri di redditività dei protocolli delle FIS cambiate quindi non abbiamo un'analisi micro sul futuro quella la analizzeremo comunque però andiamo a vedere i parametri che sono già esistenti quindi la vera analisi fondamentale micro ragazzi sulla redditività vera quella vera dei protocolli non quella magari dichiarata su un futuro previsto fra due anni allora la Crypto FA Fundamental Analysis ovviamente ragazzi è trovare coin sottovalutate Crypto TA Technical Analysis che è quella che facciamo sul grafico trovare il giusto timing di ingresso sul mercato ci tengo a farvi capire questa differenza in questo corso perché l'analisi di natura fondamentale e tecnica spesso vengono contrapposte l'un l'altro come il solito derby fra due squadre rivali in realtà questa cosa non è così ragazzi perché l'analisi fondamentale ha un obiettivo ben specifico trovare in questo caso delle Crypto, delle Coin, degli Token progetti sottovalutati l'analisi di natura tecnica non ha l'obiettivo di trovare delle Crypto Valute che sono sottovalutate rispetto al valore potenziale che potrebbero avere in futuro ma ha l'obiettivo di trovare il timing di ingresso ragazzi cosa che l'analisi fondamentale non fa non prende minimamente in considerazione quando infatti si vuole entrare nel mercato del crypto e noi utilizziamo la strategia del piano d'accumulo o la Dollar Cost Average, la DCA si fa proprio perché non si vuole applicare l'analisi tecnica l'analisi tecnica serve a darvi il timing la fondamentale vi dice dove applicare l'analisi tecnica sono due analisi che si accoppiano proprio come dei Lego visto che siamo in progetto DeFi siamo in ambito anche DeFi si accoppiano una dentro l'altra è possibile utilizzarne una senza l'altra? no e tecnicamente è possibile solo utilizzare la tecnica ma l'analisi fondamentale da sola senza un minimo di analisi tecnica lascia un po' il tempo che trova anzi è molto difficile magari da andare a realizzare quindi io ci tengo insomma a farvi capire questa differenza perché è fondamentale qual è la migliore? nessuna delle due vanno usate entrambe e il peso è una decisione soggettiva c'è chi piace di più utilizzare l'analisi fondamentale poi attendere magari con un investimento in pancia i famosi holder ragazzi che magari non gli dispiace assistere ad un portafoglio che si svaluta al 20-30% anche di più e magari chi come me soffre un po' a vedere il capitale bruciato e soprattutto utilizzato male e quindi applico molto di più l'analisi tecnica dell'analisi fondamentale anche perché parliamoci chiaro ragazzi finora l'analisi fondamentale nel settore cripto era una bagianata perché non avendo dei dati parlavamo del futuro quindi non si fa così l'analisi fondamentale adesso invece già riesce ad essere un qualcosa in più quindi da quest'anno dopo il 2021 entra anche l'analisi fondamentale nel mio paniere da analista adesso vedremo anche perché lo capirete voi stessi in questo corso allora l'obiettivo di questo corso base è semplificare la scelta di progetti sui quali basare le nostre analisi questo è importante allora come faccio a scegliere i quali progetti andare ad analizzare se io voglio da una parte avere quello che è il mio paniere di criptovalute da tenere sotto controllo poi con i grafici magari con l'analisi tecnica chi non lo vuole fare può semplicemente andare a guardare come faccio però ad andare a scegliere questo tipo di paniere dobbiamo avere dei parametri perché ci sono delle cose oggettive che vanno analizzate quindi dobbiamo avere dei parametri oggettivi da analizzare che sono appunto le cose più importanti in cui ci viene incontro appunto l'analisi fondamentale cosa ci serve? impostare parametri di natura oggettiva da analizzare quali parametri prenderemo in considerazione e quali valori prenderemo in considerazione per quei parametri poi impostare una strategia operativa proprio sulla lettura di quei parametri che è fondamentale anche questa cosa qui quindi se da una parte andiamo a scegliere i parametri operativi dall'altra poi dobbiamo avere anche una strategia per utilizzarli allora quali sono i parametri che scelgo in questo caso ragazzi e che vado a semplificare anche perché su questo ambito dovremmo anche discutere ci sono tantissimi parametri che si possono prendere in considerazione parametri verificabili nel settore crypto non sono tanti ancora perché il settore è troppo giovane però alcuni sono già estremamente cioè ce ne sono veramente tanti per esempio avete visto nell'analisi non c'è ci sono parametri infiniti direi così ora il problema sta anche qui nella confusione che vanno a generare perché spesso e volentieri un parametro è il contrario dell'altro quindi ha senso prenderne 10.000? no anzi è completamente sbagliato perché forviante si cade nell'eccesso informativo sapete bene come la penso sull'eccesso informativo visto che ci ho fatto un corso di formazione sul trading che è stato iper apprezzato proprio perché vi elimina questo eccesso di informazione vi toglie la confusione anche in questo corso basic per settore di analisi fondamentale crypto andiamo ad eliminare quello che è l'eccesso informativo e andiamo a semplificarci la vita scegliendo quelli che sono i parametri che al mio avviso sono più rilevanti ovviamente poi ognuno di voi può spaziare e in maniera ampia può anche dettare qualche consiglio e scegliere i parametri che più ritiene e importanti per questo settore quelli che ho scelto io sono l'FDVU che è la Fully Deluted Value cioè la capitalizzazione di una token di una crypto in Fully Deluted cioè totalmente diluita da tutti i coin che sono nella tokenomics che sono nel progetto quando il mercato conosce un valore in questo caso la capitalizzazione diluita non va a basare il suo prezzo di oggi sul valore del token circolante ma lo va a basare sul token diluito sì lo so magari diranno ok sarà fra 100 anni come bitcoin benissimo allora si farà una ponderazione e si dirà ovviamente questa diluizione avviene entro x anni andiamo a considerare un po' di meno quindi che è un po' di più ma se io conosco un parametro e so già quanto varrà a quel progetto fra 1-2 anni perché il capitale sarà fortemente diluito dall'immissione di token quindi inflazionistico io già valuto questa cosa nel prezzo del token quindi la FDV è il vero valore di analisi della market cap altro parametro scelto è il protocol revenue cioè le fee totali pagate al protocollo abbiamo visto in quest'ultimo anno una serie di protocolli proliferare nell'ambito della DeFi soprattutto che hanno già iniziato a lavorare quindi a muoversi è vero che ancora siamo un po' prematuri siamo in beta position va bene però abbiamo già delle fee totali pagate al protocollo per esempio i protocolli legati ai DEX quanto incassano ragazzi quanto revenue hanno incassato questi protocolli così possiamo andare a avere un'idea di chi sta comandando in questo abito in termini di ricavi ragazzi quelli veri e poi andremo a vedere anche gli earnings cioè gli utili perché sono stati calcolati da questa piattaforma anche in un modo abbastanza interessante quindi questo è il senso di andare a fare un corso micro di analisi fondamentale micro ora proprio perché questi dati esistono nell'ultimo annetto e mezzo ragazzi prima non c'erano questi tipi di dati quindi adesso abbiamo questa possibilità di vedere questi protocolli andiamo a vedere quanto stanno incassando questo è assolutamente un altro parametro poi avremo gli earnings gli earnings sono stati calcolati come revenue meno cost i costi sono quelli legati allo sviluppo del progetto gli earnings tecnicamente sono dei valori che possono essere distribuiti ai token holders del token in questione del protocollo allora poi abbiamo un altro parametro il PS ratio che è il price diviso i sales del protocollo bene adesso andiamo a fare un esempio andiamo ad applicare una strategia operativa cerchiamo di scegliere quelli che sono i protocolli andando a basarci sui nostri parametri che hanno dei valori molto standard facciamo appunto un'analisi fondamentale tipo una cosa classica appunto questo è un corso e cerchiamo di dire va bene questo tipo di protocollo potrebbe essere in sostanza abbastanza sottovalutato o ben valutato in base alla sua struttura e quindi magari un protocollo che chiameremo value va bene ragazzi per queste cose vi rimando a un altro video che farò nell'ambito della differenza value e growth allora nel momento in cui andiamo a fare questa cosa cerchiamo di prevedere alla fine cosa quelli che sono i protocolli che in base alla loro analisi di natura fondamentale su questi parametri potrebbero resistere di più ad un mercato orso di bitcoin che poi questa diciamo la vera domanda che ci frulla un po' tanto in testa anche in questo periodo andiamo ad analizzare per esempio quello che è un settore delle criptovalute il settore della blockchain cioè dei layer delle chain ragazzi quindi bitcoin ethereum terra solana quelli che sono le chain dove si può andare a costruire un eventuale progetto un protocollo eccetera allora andiamo a vedere questo settore facciamo prima un esempio qui poi andiamo invece ad analizzare il settore defi che è molto interessante quindi anche come case study andare a vedere appunto come il settore defi risponde anche a questa tipologia di analisi allora la prima cosa andiamo qui dove ci sono i markets e ci prendiamo blockchain allora in questo caso andiamo a vedere quelli che sono le blockchain più famose nel settore cripto e innanzitutto abbiamo la market cap nella situazione della market cap quello che insomma io ho messo ragazzi a 180 giorni 6 mesi passati vanno bene perché il settore cripto è estremamente veloce quindi andare a analizzare magari non so a 365 ci può stare se vi serve qualcosina però è ovvio che è abbastanza importante andare ad analizzare anche in periodi molto più veloci perché cambiano tante cose nell'arco di pochissimo tempo per esempio vedremo in questo analisi che terra a livello di revenue non ha nulla perché è troppo giovane come progetto rispetto agli altri quindi ricordatevi anche che la data di uscita di un progetto influisce molto sui dati che noi abbiamo a disposizione e che sono presenti in questi tool di analisi fondamentale allora la market cap ovviamente ragazzi stradominio di bitcoin con sotto ethereum guardate come regge insomma quindi ci dice come sta andando la market cap è anche un modo di andare a visualizzare quello che è l'andamento di mercato perché poi nella stessa market cap si vede come sale e scende la struttura legata al prezzo appunto della coin sulla struttura dei revenue c'è uno strapotere un dominio assoluto delle revenue generate da ethereum quindi ethereum in questo momento domina totalmente il settore del revenue per le blockchain perché le fee di ethereum sono stellari come ben sapete quindi incazza l'88% del total blockchain revenue quasi tutto praticamente viene incassato dalla rete di eth la questione legata alla redditività ci dice che eth è la chain più redditizia quindi se io magari voglio andare a possedere un token di una chain redditizia dovrei tecnicamente scegliere il token di eth vedremo poi cosa succederà con il 2.0 comunque allora in questa analisi il parametro ci dice che nella market cap vince bitcoin chiaramente nella revenue invece ethereum alla grande addirittura ragazzi vedete nella revenue qui sotto non mi appare neanche terra perché terra è troppo piccola quindi escludiamo per esempio ethereum in questo caso la seconda chain che incassa più di tutti è bsc binance smart chain però ad esempio vediamo qui che poi la struttura dopo binance smart chain c'è bitcoin quindi ethereum come revenue abbiamo ethereum binance smart chain poi bitcoin poi la avalanche ragazzi perché è polygon che sono praticamente equivalenti quindi avalanche polygon poi abbiamo phantom solana che persiste addirittura poi abbiamo helium guardate cardano adesso e near protocol non c'è luna perché l'una è troppo giovane in realtà magari la possiamo trovare qui per esempio se andiamo a qui ethereum non c'è andiamo a togliere per esempio anche bitcoin dall'analisi andiamo a togliere cardano per quanto diciamo sia addirittura più fa più revenue ma perché c'è da più tempo ragazzi qui hanno inserito anche dodge che comunque qualcosina la incassa in termini di fee e qui abbiamo terra vedete anche come si muove sulle cene di terra e anche polkadot quindi da un punto di vista di scelta delle revenue su un protocollo ethereum stravince in questo caso però abbiamo anche alcune informazioni rilevanti e cioè che i layer successivi sono avalanche polygon e phantom e che solana nonostante diciamo il grandissimo progetto fa anche poche revenue diciamo rispetto a quello che si potrebbe pensare è anche vero che come vedete qui non c'è niente perché era appena stata creata quindi bisognerebbe andare a guardare qui però guardate polygon come fa più revenue come protocollo di tutte queste qui quindi è assolutamente negli ultimi 180 giorni la considero addirittura anche più di phantom vedete che è in basso spostiamoci all'altro parametro il price to sale ratio ragazzi questo parametro va analizzato in questo modo più è alto il price to sale ratio peggio è nella valutazione di analisi fondamentale quindi più il progetto ha un price to sale ratio molto alto più significa che è overvalued cioè è valutato troppo rispetto ai revenue che genera attenzione perché qui in questo tipo di analisi dovete ricordarvi che non sono considerate le previsioni future questo è fondamentale nel settore delle criptovolute andarlo a comprendere ragazzi questi sono analisi di natura fondamentale value quindi significa sugli attuali valori poi dobbiamo essere noi bravi ad inserire anche una previsione di crescita magari dei revenue futuri quindi in questo caso quando andiamo ad analizzare la valorizzazione di un progetto in base alle revenue future ci dobbiamo andare a capire che è una divisione fra la capitalizzazione diviso il revenue se i revenue sono bassi ovviamente vi esce fuori una cifra spropositata se volete per esempio vi faccio vedere anche come è stato creato l'indicatore qui ve lo spiego in maniera molto semplice come è valutato un progetto in relazione ai suoi revenue quindi qui vi dice proprio come è calcolata appunto la market cap diviso per i revenue che abbiamo visto prima che sono annualizzati allora in questo caso nelle blockchain che stiamo guardando quella più cara che è stata in questa fase per esempio a giugno è stata Near Protocol però ragazzi in generale a noi qui non interessa dove è partita interessa l'ultima parte perché ci interessa dove siamo ora e guardate come ad esempio Near Protocol ha ridotto di gran lunga la sua capitalizzazione e rispetto alla fase dei suoi revenue quindi qui ci dice anche una cosa molto interessante questa analisi e questa indicazione ci diceva che Eniarra era uno short più o meno se non o aumentavano appunto le revenue oppure questa coin da agosto poteva essere overvalued quindi estremamente pericolosa da tenere in portafoglio il caso di Near Protocol tra l'altro un caso da manuale dove fare proprio questo esempio perché quando voi vedete appunto questa parte di overvalued cosa succede che in realtà questo overvalued viene riassorbito proprio perché il protocollo viene lanciato inizia a macinare revenue quindi nonostante voi vedete questa curva discendente il prezzo di Near Protocol proprio da agosto ha iniziato a salire perché è stata lanciata la piattaforma quindi da una parte è stata lanciata a prezzo alto ma poi i revenue sono iniziati a salire in maniera importante quindi il prezzo di Near Protocol si è riallineato c'è un altro esempio pratico invece su Elrod che è molto interessante da guardare proprio perché va in overvalued e poi crolla e il prezzo in questo caso segue perfettamente questo indicatore di analisi fondamentale stiamo parlando di Eagle allora guardate che è questa qui ragazzi la questa diciamo che questo protocollo è stato appena lanciato questa produzione è appena lanciata allora come schizza su veramente a ottobre e va in overvalued crolla inesorabilmente e addirittura si avvicina alle migliori cene allora andiamo a vedere che cosa succede invece sul prezzo esattamente questo ragazzi vedete da ottobre ha iniziato questo app spropositato quindi questa super bull di Eagle e poi da novembre inizia a crollare nel frattempo tra le altre cose vi assicuro che i suoi revenue sono anche estremamente saliti altrimenti sarebbe crollata anche di più se avete un po' di dubbi in questo momento le tre overvalued prese secondo il PS ratio sono Tezos Solana Avalanche e Polygon che vediamo qui allora proviamo a toglierle tutte abbiamo poi la Phantom in questione che si avvicina però ad Helium a BSC ed Ethereum le migliori ragazzi sono Ethereum e BSC perché hanno tanti revenue per la loro capitalizzazione al punto tale che viene addirittura definibile sostenibile questo valore proprio in base ai revenue che incassano alle FI che incassano BSC più cara di ETH ma vedete ETH come anche da un punto di vista di analisi fondamentale risulta nel top perché abbiamo già visto come market cap e poi come revenue e poi adesso PS andiamo a vedere i earnings che è l'altro parametro che dobbiamo andare a confrontare per questa tipologia di analisi anche in questo caso possiamo andare a vedere Kusama ancora molto alta in base ai suoi utili poi c'è Airroad che anche qui vedete e poi si è ripristinato diciamo molto velocemente Kusama e Polkadot sono secondo un'analisi fondamentale quelle overvalued anche negli ultimi mesi nell'ultimo periodo e poi ci sono un'altra serie di cripto per esempio andiamo a vedere in questo caso Filecoin in questo caso sta crescendo molto probabilmente c'è stata un'impennata di prezzo non giustificata dagli earnings abbiamo Mir che invece si è equilibrata vedete come è scesa poi abbiamo Solana che è overvalued anche qui rispetto chiaramente a quali ragazzi a quelle che sono le top ok bene fatto questo adesso vediamo la tabella in basso dove possiamo rivedere tutti i parametri analizzati e magari scegliere quella che secondo noi in base a questi parametri può essere un progetto che è valutato nel modo giusto vi faccio vedere questa che è la tabella poi in basso se scendiamo che ci dà una situazione totalmente confrontabile di tutte queste chain qui possiamo avere la total revenue se ci interessano diciamo che total revenue abbiamo anche la variazione negli ultimi 180 giorni quindi se stanno salendo stanno andando quindi una specie di trend anche dei revenue possiamo andare a vedere intanto il price ratio più alto e più basso cliccando qui quindi più basso Ethereum poi abbiamo Binance Smart Chain Helium Phantom e Gold Polygon Avalanche questi sono e Solana poi altre insomma scendendo ancora più giù terra guardate qui dove è è altissimo perché i revenue di terra sono ancora molto molto bassi tra l'altro vedete il PS di terra è salito tantissimo negli ultimi sei mesi perché il prezzo di terra è arrivato alle stelle quindi i revenue non hanno seguito ragazzi se la vediamo qui per esempio total revenue negli ultimi 180 giorni sostanzialmente è stabile questo è il trend dei revenue quindi terra deve appunto aumentare i suoi revenue base a quest'analisi se vuole mantenere questo livello di pricing allora se volessimo scegliere quelle che sono le crypto undervalued oppure valutate corrette in base a quest'analisi dovremmo andare a scegliere le prime e in particolar modo dovremmo dire ETH top perché con il PS ragazzi ci sta ancora dentro ha un PS di 27 quindi praticamente simile a quello di una azienda old economy c'è un motivo su questo cioè un dubbio un punto interrogativo sulla questione degli incassi dei revenue proprio perché Ethereum ha la questione degli Ethereum 2.0 quindi anche quello che va visto perché questi revenue stellari che ha non saranno sostenibili in futuro Phantom per esempio è da prendere in considerazione perché oltre ad avere un PS in discesa da 180 giorni vedete e 90 giorni quindi significa che i revenue stanno aumentando non ha un prezzo di mercato particolarmente alto rispetto alle competitors e in questo caso andiamo a guardare che cosa la fully deluded market cap Phantom sta in fully deluded a 7 billion contro magari avalanche solana e terra che sono molto più alte proprio 1-0 in più questo è un esempio di strategie che stiamo costruendo Phantom Eagle Polygon e anche un po' avalanche anche se per quanto riguarda la fully deluded è un po' altina facciamo lo stesso esempio per concludere questo corso sulla scelta nella mondo della DeFi e lì si ci gioca perché ci sono anche altri valori da andare a confrontare qui abbiamo in questo caso il valore della Total Value Locked che ha senso mentre nel presente non l'abbiamo guardato perché nelle chain non c'è ma nella DeFi sì nei protocolli DeFi c'è quindi dobbiamo anche andare ad analizzare quello che è il Total Value Locked poi avremo ancora una volta il Revenue del protocollo la PS Ratio e il Price to Earnings andiamo direttamente giù in tabella a confrontare tutti i vari progetti intanto partiamo dal Total Value Locked è altissima a quella di Carve tantissima della liquidità di Carve viene fuori proprio dalla chain di Etiak quindi lo sappiamo insomma che lì c'è tanta roba che sta su Earth 20 allora andiamo a vedere un po' quelle che sono invece i valori del PS quindi insomma qui ragazzi è abbastanza semplice andare a vedere questo trend anche perché nella Total Value Locked in questo caso avete anche il 180D trend ci dice come si sta muovendo la liquidità e vi ho detto che la liquidità nei protocolli della DeFi è estremamente rilevante quindi da andare a considerare abbiamo per esempio un buono incremento anche su Istatapp e su alcuni protocolli come Lido Finance vedete che hanno un 180D molto alto poi è ovvio bisogna sempre rapportarlo alla Total Value quindi se andiamo a prendere questi che sono incrementati tantissimo ma hanno una Total Value Locked è bassissima quindi quasi nulla diciamo non ci serve però Lido Finance per esempio in questo caso ha 10 billion quindi l'incremento è sostanzioso quindi questo protocollo si sta comportando abbastanza bene anche in Startup perché è 10 billion andiamo a vedere poi il PS perché in questo caso ci potrebbe dire il prezzo della singola coin se è sottovalutata esco di una serie di dati interessanti allora vi faccio vedere anche il PE perché secondo me visto il settore specifico quello della DeFi cioè che ha tanti costi di audit eccetera è meglio andare a utilizzare invece del PS il PE come indicatore più attendibile il caso Pancake è estremamente interessante ragazzi perché la market cap è veramente molto bassa e questo è interessante da andare a guardare ora la questione è legata al fatto che questi sono token di farm and dump e quindi poi bisognerà andare a capire infatti l'andamento vedete è molto ribassista però da un punto di vista di struttura cioè degli earnings che va a creare questo protocollo e in base alla coin di riferimento se prendiamo Cake qui ci sta dicendo che ha un PE interessante l'altra è Spooky Swap poi c'è Trader Joe ma guardate qui Yen Finance ragazzi perché in questo tipo di analisi bisognerebbe andare anche a guardare quelle che sono anche delle coin dei protocolli che ci sono già da tanto tempo e che magari hanno già implementato dei programmi da far rientrare della liquidità di avere tanta liquidità ma anche allo stesso punto diciamo essere arrivati al famoso break even quindi Yen Finance non è male perché c'è già da più di un anno infatti Yen Pancake Sushi Balancer sono dei protocolli abbastanza in linea con questo tipo di analisi fondamentale se non in alcune situazioni potrebbero anche essere definiti sottovalutati allora andiamo a vedere invece le prime che sono Carve Istatap e Lido Finance se rispecchiano anche l'altro nostro parametro allora intanto qui abbiamo individuato Pancake e Yen Finance e anche SushiSwap come delle coin probabilmente undervalued rispetto a questi dati e poi possiamo andare a vedere Carve Carve è qui ragazzi vedete come Synthetix che sono quindi dei protocolli a centro pista quindi sono altini come PE perché 153 è alto ragazzi però hanno anche un predominio di sviluppo importante nell'ambito della total value lock ed è soprattutto Carve che è uno dei più antichi e soprattutto perché ha un'interfaccia pessima ragazzi quindi questo significa che basterebbe nulla a migliorare la sua situazione abbiamo anche Lido Finance che è qui ed è interessante prendere in considerazione insieme a poi insomma ad altri quindi in questo caso per un'analisi fatta sul mondo della DeFi seguendo l'ottica di questo corso abbiamo delle coin che sono importanti da valutare e sono Pancake Yarn Finance poi abbiamo Sushi poi abbiamo Lido Finance Carve e aggiungerei in seconda battuto Synthetix e anche Spooky Swap perché Synthetix ha insomma una TVL veramente bassa cioè non troppo alta che qui è Spooky la stessa problematica questo è cripto che abbiamo visto in questo momento secondo un'analisi progettata e costruita sui parametri di natura fondamentale sono probabilmente le value ora qui cosa facciamo andiamo le compriamo così no ragazzi c'è il problema legato all'equilibrio fra le analisi allora abbiamo visto in questo corso in analisi fondamentale quali sono i parametri dove andarli a prendere come si valutano questi case study che vi ho fatto vedere ma poi bisogna andare a metterci la testolina e allora andare a ragionare su altre cose perché poi c'è da dire come si muove il progetto come la community come il team sta lavorando quanta importanza quanta validità ha quel progetto magari nello sviluppo futuro queste cose nei dati di analisi fondamentale non li trovate perché i dati di analisi fondamentale sono il passato non sono certamente lo sviluppo futuro quindi lì rientra la tokenomics l'analisi del white paper che sono comunque approcci di micro analisi fondamentale che sono ancora utilissimi ma qui abbiamo dei dati veri nuovi da aggiungere che ci hanno dato un paniere di protocolli da andare a studiare e approfondire cosa faccio io e come analizzo queste cose l'ultimo tips bonus di questo corso vado a inserire questi cripto che vado a trovare nei miei sistemi di analisi tecnica e quando l'analisi tecnica mi dà un timing d'ingresso magari dandomi un ingresso long io vado e lo seguo quindi aspetto sempre che il mercato sia lui a fare il primo passo perché? perché il timing poi è fondamentale magari molti di questi protocolli verranno e continueranno ad essere magari undervalued per tanto tempo perché semplicemente il mercato sta inseguendo la dodge di turno o la chip di turno ragazzi ok? quindi ricordatevi sempre equilibrio anche tra analisi fondamentale e analisi tecnica bene siamo arrivati alla fine di questo ipercorso lunghissimo spero vi sia piaciuto è un contenuto advanced fatemi sapere cosa ne pensate condividetelo il più possibile ragazzi in modo da darvi anche una mano a far girare tutto questo contenuto ed aiutare anche tutta la community italiana dei cripto investitori ad avere nuove armi e nuove frecce all'arco direbbe Legolas ciao ragazzi al prossimo video grazie a tutti